Ciao, sono Piffa e vi volevo parlare del centro accoglienza Padre Olaio, che si trova dietro l'ospedale Buccheri Laferla a Palermo. Qui vengono ospitate persone in difficoltà e senza casa, di qualunque sesso e religione. Questa è la cucina. Questo è il refettorio. Queste sono le stanze. Ognuna col suo bagno. Queste sono le docce. E questo è San Giuseppe con il figlio che conoscete bene. Questa è la lavanderia. Questo è il guardaroba a lei e son regina. Questa è la dispensa gestita da Sor Angela che non si vuol far riprendere. Sor Angela! Lui è Fra Luigi, responsabile, e il signore vestito di bianco accanto a Fra Luigi e Papa Francesco. Questa è la splendida moto in sorteggio a Natale. Due biglietti solo 5 euro, ma manco per farlo. Come potete vedere c'è tutto, ma manca sempre qualcosa, anzi qualcuno. Il volontario, non ce ne sono mai abbastanza. Se hai tempo e voglia, unisciti a loro. Se hai voglia, ma non il tempo, manda pure i soldi, che qui nessuno si offende.